Il corso Comunicazione e Stackholder Theory offre una comprensione approfondita dei principi fondamentali della teoria degli Stackholder e della loro applicazione pratica nel contesto aziendale. Attraverso questo modulo, i partecipanti imparano a identificare e prioritizzare gli Stackholder chiave, integrando questa analisi nella strategia di gestione delle risorse umane. Inoltre, sviluppano competenze nella gestione dei conflitti e delle crisi, apprendendo strategie per rispondere efficacemente alle esigenze degli Stackholder primari. Un percorso formativo essenziale per una gestione consapevole e strategica delle relazioni aziendali. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date, programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.